Adesso sta registrando. Molto bene, oggi qua, l'incontro a Loreto. Adesso salutiamo il Seve e ce ne andiamo. Grazie di tutto, Seve è stato bello. Ha fatto un viaggio lunghissimo, soprattutto la provinciale. Poi nel pomeriggio siamo andati a Loreto a fare il voto, alla Madonna. Eh Seba? Forse spiegare dove volete andare. È un po' prima. Reggio Miglio ora. Ma poi abbiamo cambiato tutto. Guardate la Madonna del Loreto. Che però è sotto l'impalcatura qua. Quindi andremo a vedere i resti della casa di Gesù all'interno di quella cattedra. Tra i numerosi personaggi e santi che vi hanno fatto visita si ricordano Santa Camilla Battista, Santa Teresa, San Giovanni Beretta. Interessante. È tutta cultura questa ragazzi. Quindi la cosa più importante è che ci sono i resti. Oh, ignorante, mamma mia, che schifo che fai. E stiamo partendo per andare a fare il sentiero dei briganti. E siamo qua con cinque briganti. C'è anche il brigante autista. Autistico, saluta. Sì, è più autistico che... Eccoci qua con questa manica di briganti che hanno dormito tutto il tempo in auto. Ma chi? Come chi? Ma come chi? Ma come chi? Non sa niente. Non sa niente, dormiva. Non so. L'unico che non dormiva era il guidatore, guardatelo, ha già impegnato. Tutta la risposta d'organico. Ecco, questa cosa, questa risposta è inquietante. Infatti io gli parlavo, lui non mi rispondeva. Pensavo fosse concentrato a guidare invece. Comunque sono imbarazzanti i tuoi amici, eh. Tutto il tempo a dormire, mamma mia. La stava infortunando quel ragazzo. No. No, assolutamente. No, assolutamente. Che steppa? Compilo... La... Salva con dopo. Perché ti restano qualcosa dopo? Se arriviamo sani e salvi, sì. Vabbè, allora parlo per il sani e salvi e parlo con gli altri. Questo è il testamento. Tu non fai... Lascio tutto, lascio tutto a mia moglie. Sì, ma scusa, l'ultimo macchinario che hai preso, come puoi lasciare? Dai, conserva, tu voglio... L'ultimo macchinario. Questa, due ore e mezzo, ti porta sopra. E poi due ore e mezzo, riuscite. No, un bell'anello. Eh, sì. Però Luciana, non ti abbiamo fatto mettere anche tu la borsetta. Mi prego. Spendiamoci un caffè, mamma. Senti, un'altra cosa più importante. Domani sera, loro prevedono, rientro verso le nove di sera. Perchè a testare e con te, come ti avevo mandato il messaggio? Non l'ho visto perché... Vabbè, non ti preoccupare. Vabbè, possiamo... Lo lascio io al bar perché alle nove ancora no? Ci piace, Luciana. Grande Luciana. È aperta delle due. Sennò arrivavamo a casa tua, suonavamo e... Sì, come no! Perché ogni brigante, dopo, ha qualcosa da farsi perdonare. I could show you love In the tidal wave of mystery You'll still be standing next to me You could be my love Briganti! Oh, quando chiamo vi dovete girare, cazzo! Ne abbiamo parlato prima! Sto mangiando, sei. Dai, rifacciamo. Briganti! Oh, grazie, ragazzi. Una d'affanculo, eh. Io non ci vengo più con voi. Briganti! Ma vaffanculo! Cazzo detto? Vaffanculo! Ma è uno, è un autoctono, è un indigeno. Quarantanove! Quarantanove, qua? Ho detto cinquanta... No, mi spazio. È del cinquanta, ma non ha cinquanta. Ah, è del cinquanta, ma non è quarantanove. Cazzo, cinquanta, sei babbo. Oh, babbo a chi? No, mi pare che... Oh, qua è dando il babbo, piano con le offese. Ma non devi pisciare? Che ti faccio una ripresa. Ecco! Ahia, 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 mi ha fatto male, cazzo! Cazzo, cazzo, mi ha ucciso! Oh, ma ho fatto un buco nell'occhio! Oh, ma io ti faccio causa! Guarda qui l'avvocato, ti ha registrato mentre... Le vedo stanche. Secondo me non ce la fanno. Ancora, ragazzi, dobbiamo chiamare per farci venire la prima. Sì, può essere. Sì, può essere. Sì, può essere. Sì, può essere. quattro chiacchiere un po di caldo acqua fresca i rumori della natura spesso il silenzio questo è tutto quello che serve per stare sereni per vivere felici per godersi gli amici la fontana ma andate avanti a camminare più avanti è in salita dopo in discesa è in salita dopo in discesa è in salita dopo in discesa non è il peccetto di già vita e poi te lo mi raccontavo sì mi fate adesso l'immagine di tutti e quattro in fila che ha dentato il panino sporgetemi in avanti dai dai tutti e quattro tutti e quattro grandissimi ciao ciao quindi mi avete rotto la GoPro posso tornare a casa? tutto mio per i chilometri mi registrate voi la traccia? ci pensiamo noi a proposito lasciarci la traccia del cellulare lasciarci anche la GoPro ok ciao 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 Grazie a tutti.